Sono convinta inoltre che in materia migratoria l'Europa debba cercare soluzioni innovative come abbiamo fatto noi in Italia. Una di queste soluzioni innovative è certamente quella che abbiamo indicato con il protocollo Italia-Albania per processare in territorio albanese ma sotto giurisdizione italiana ed europea le richieste di asilo. Quando ho sottoscritto il protocollo con il primo ministro Rama a cui voglio rinnovare anche in quest'Aula il mio ringraziamento per il grande gesto dallo spirito europeo che ha compiuto, mi sono augurata che potesse diventare un modello e con orgoglio oggi possiamo dire che lo sta diventando. La maggioranza degli Stati membri infatti ha di recente sottoscritto e inviato un appello alla Commissione europea per chiedere che l'Unione europea segue il modello italiano dell'accordo con l'Albania. Perfino la Germania attraverso le parole della socialdemocratica ministra dell'interno Nancy Faeser ha dichiarato di seguire con interesse questo accordo. Qui il cambio di passo c'è stato e si vede. Sono orgogliosa del contributo che l'Italia ha dato in questa direzione per invertire la rotta. Infatti ricordo sommessamente che prima dell'insediamento di questo governo il dibattito in Europa si focalizzava unicamente su un punto cioè su come redistribuire tra i 27 Stati della UE gli immigrati che sbarcavano soprattutto in Italia. Posizione che il governo... Scusate mi sono persa un foglio. Ora il paradigma è completamente cambiato ma è fondamentale che nei prossimi mesi e anni questo approccio si consolidi e diventi strutturale. La stessa lettera che la Presidente della Commissione von der Leyen ha ieri indirizzato ai capi di Stato e di Governo va in questa direzione stabilendo che questo approccio debba rimanere al centro delle priorità anche del prossimo ciclo istituzionale. Grazie.